Carcere a vita per i due giovani statunitensi condannati per l'omicidio del vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cercello Rega, ucciso con 11 coltellate nel luglio del 2019 a Roma. Dichiara Elder Finnegan Lee e Gabriel Natale York colpevoli dei reati loro ascritti in concorso, unificati sotto il vincolo della continuazione e condanna entrambi alla pena dell'ergastolo. La Corte d'Assise di Roma, dopo una Camera di Consiglio durata 13 ore, ha accolto le richieste del Pubblico Ministero, che aveva indicato in Elder Finnegan Lee, l'esecutore materiale dell'omicidio, e in Natale York, l'organizzatore di tutta la serata. L'avvocato Renato Borzone, difensore di uno dei due statunitensi, ha annunciato ricorso in appello parlando di sentenza che è una vergogna per l'Italia, con dei giudici che non vogliono vedere quello che è emerso dalle indagini. Per il PM e la Corte, invece, i due in vacanza a Roma dopo aver subito il furto di uno zainetto durante un tentativo di comprare della cocaina, hanno accoltellato il carabiniere, che era in servizio e si è qualificato mostrando il tesserino, essendo intervenuto insieme ad un collega di pattuglia, su richiesta di uno spacciatore che i carabinieri conoscevano.